Quindi in poche parole questo video è per dirvi non comprate la schiuma party del carnevale Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questo è lo speciale carnevale E siamo io e Angelo ovviamente Il carnevale poi E in pratica dovevamo andare nel paese vicino Perché nel nostro paese non si fa un niente Non si fa niente E solo che tipo il tempo era brutto Quindi tipo ha piovuto Trove cose così E quindi non ci siamo andate Però siamo uscite a Ghaff Sì a F Siamo uscite qua Questo dovrebbe essere un vlog tipo Perché non devi dire il paese Perché poi ci vengono a trovare i pedofili Io sono una pedofila comunque Stolkerizzo tutti E niente siamo uscite noi due Io avevo in casa avevo dall'anno scorso due scatolette di schiuma Una era proprio finita L'altra l'ho finita Era piena Era nuova L'ho finita Perché finisce subito Perché tu appena la sprucci Ti fa tipo Ti tenesce subito tutto E quindi dopo non è proporzionale Capito Esce subito tanto Comunque Ma c'è tipo una nebbia Fittissima Vabbè Nella telecamera A parte che si vede anche di meno Che della realtà Però c'è una nebbia Che sta diventando sempre più fitta All'inizio Non era Cioè si vedeva di più Ma ovviamente sta diventando sempre più fitta Comunque Ma vi faccio vedere Quello che sono riuscita a fare Con una cosa così Che adesso ho buttato nel cestino Vabbè non vi posso far vedere Quello che ho fatto Perché Perché E lo so solo io il motivo Però comunque Ho fatto un disegno grande Qua sul Sul piazzale Che ora non c'è più Vabbè Comunque un disegno grande Poi ho scritto qua Mi ricordo esattamente tutto Cioè poi in realtà L'ho cancellato Perché era una cosa mia e sua Una cosa Tipo Una cosa che fa ridere Una cosa Una cosa disagiata Come lo è lei sempre Vabbè Allora poi siamo andati Detto che stava uscendo Un signore Andavamo a una casa Qua vicino L'abbiamo subito cancellata Ci siamo preoccupate Per fare una figura E poi siamo andati a farlo Più là Più là Sotto tipo Siamo andati a farlo Più Più di là Ecco E c'è ancora Però non ve lo faccio vedere Ovviamente Niente C'è però L'ho fatto più piccola Anche se mi è venuto Di tipo strano Mi è venuto Strano Invece quello Mi era venuta meglio Però l'ho Fatto troppo Poi il bello Della schiuma Cioè io preferisco Quella La stella filante Però Sempre così Con la bomboletta Però La schiuma Appena la fai Sembra bellissima Sembra tipo Non lo so Non so cosa sembra Anche prima abbiamo Cercato di capire Cosa sembrasse Però non l'abbiamo scoperto E poi invece Si vede Poi man mano che lo fai Si vede che schiuma Allora poi Gli ho spruzzato un po' Adosso a lei Però Si sta asciugando Poi un po' qua Anche se Anche ma appunto Si sta asciugando Poi avevo scritto Una cosa qua Su questo muro Che ora si è asciugato Anche perché Un po' l'aveva tolto Anche lei Perché avevo scritto Una cosa su di lei E sul ragazzo Che le piace Su uno dei ragazzi Che le piace Perché ne piacciono due Poi sono andata E poi sono andata a fare Una cosa a caso Qua Sull'albero Ecco Poi vabbè Ho spruzzato un pochino A caso Cioè no In realtà no Poi alla fine Niente questo Abbiamo finito Ed è finita La bomboletta Poi ho fatto così Ah no Giusto Per ultimo Avevo scritto qua Stavo scrivendo Su questo muretto Un'altra cosa Che ora ha cancellato Sempre Angela Io non l'ho cancellato E chi l'ha cancellato Questo Io E io non l'ho cancellato Quello che scrivo Sono stupida E mentre lo scrivevo Proprio è finita la schiuma Quindi ora Primo mia madre si arrabbierà Perché io tipo Le avevo detto Si la prendo Tanto in un giorno Non la finisco Specie se non c'è nessuno Quindi No Però Io mi ricordavo Che durassero di più Quindi Vabbè Si arrabbia E poi Un'altra cosa Se è martedì Vado Se è martedì Vado Vado al carnevale Dove ci sono i carri Perché nel mio paese Non in quel paese Nel paese vicino ci sono Se ci vado Sarò senza schiuma Sicuramente mia madre Per me la compri Vabbè Io mi ricordavo Che durassi di più Ma la prossima volta La schiuma non la compro Compro la stella filante Tu parla Dici E che devo dire E cosa sto pensando Ho detto tutto Vabbè Quindi In poche parole Questo video Questo video È per dirvi Non comprate La schiuma Parti Del carnevale Ora stiamo Cambiando a caso Niente Dato che c'è finito Il coso Rob C'è finita la schiuma Non abbiamo più niente Da fare in giro Anche perché Non c'è nessuno Quindi niente Ciao Spero Speriamo Vi sia piaciuto Questo speciale Carnevale Tipo Sempre tipo Lei poi si è fissata Con robe cose Con robe cose E quindi Niente Ciao Fatemi sapere Giù nei commenti Come avete passato Il carnevale Questo non